ciao ragazzi cheers primo tempo empoli milan 0 a 0 quello che avevo pronosticato quello che avevo pronosticato parentesi iscrivetevi al canale per favore basta fare iscriviti non vi costa nulla subscribe ma aiutate a mi aiutate a far diffondere ancora di più il video quindi iscrivetevi al canale per favore e niente quello che avevo pronosticato quello che avevo pronosticato se voi andate a vedere il video di prepartita di stamattina di empoli milan avevo detto che l'empoli è una scuola tosta che l'empoli ci darà filo da torcere che ci vorrà l'apporto del centrocampo che non c'è che se la dovete sempre leao che girù è sempre marcato centralmente non riesce a sfondare centralmente abbiamo di nuovo gli infortuni come calabria che dovrebbe aver subito un brutto infortunio quanto pare secondo me dietro il dietro la coscia destra non so se siamo scolari o meno c'è sale maker pure che si è fatto male è entrato calulu e insomma più di non sa un po dove mettere le pezze e c'è una partita da vincere assolutamente anche perché il napoli ha vinto e non vogliamo far rientrare quelle che sono dietro no non le vogliamo far rientrare quindi il zanetti è molto furbo però sta furbizza zanetti non te porta lontano molto furbo perché ci hanno questo cazzo di portiere vicario che ha già fatto un paio di parate medie non paratoni però insomma parate di un certo spessore un portiere che dà sicurezza è una squadra compatta l'empoli come avevo già detto che gioca davanti quando arriva davanti è insidiosina crea delle insidie crea dei pericoli è un milan magari un milano un po più stabile che mette le cose in chiaro come deve andare la partita ce lo si aspetterebbe un po di più non c'è rapporto quello che mi aspettavo io che vi dicevo l'apporto del centrocampo c'è tonali che è uscito un po di più sul finire del primo tempo ma è poco qualche lancio ma è poca cosa sale maker si è mangiato un gol secondo me è fatto le house e mangiato un altro gol davanti la porta salvataggio di vidi di vicario ma quel gol un attaccante cattivo lo fa un milan dietro ballotture bene devo dire andiamo sui singoli come squadra direi a bada si è sufficiente compitino una squadra che vuole vincere mette più in chiaro le cose subito e e decateler decateler dunque centrocampo come dicevo il centrocampo deve partecipare guardate il napoli guardate il napoli il centrocampo del napoli quando vi dico il centrocampo guardate anche i sa oggi che fa due gol in 20 minuti è il centrocampo che va che aiuta o guardate nella serie cadetta il bari che c'è un bel centrocampo e il centrocampo deve aiutare nel milano non aiuta c'è benasser che è affaticato ha dovuto sacrificarsi oggi per giocare e c'è un centrocampo che non va al tiro decateler decateler io non ho nessuna critica da fargli l'unica cosa dico che c'era un fallo su decateler a limite dell'aria al trentesimo un fallo netto su cui più lì si è lamentato e che per noi poteva essere una palla da ferma importante al centro dell'aria limite dell'aria a fine primo tempo adesso ci ritroviamo con crunch a possesso le maker e quindi non abbiamo una la destra mi sembra che abbia spostato le auto a destra e con ci giocherà a sinistra insomma un milano un po in affanno chi ha era beccato il secondo giallo consecutivo nel senso della seconda partita consecutiva quindi chi era un po in affanno con dei velocisti bisogna stare attenti a queste all'amers a satriano e anche piazza quando si propongono in avanti perché possono perché fanno paura perché possono creare delle insidie perché loro hanno sbagliato un paio di tocchi perché dal limite dell'aria lì un'azione poteva anche fare male e si è immolato ballo tourè su un tiro che credo di lammer su cui loro hanno chiesto il fallo di mano ballo tourè abbastanza bene manca qualcosa mancano i cambi e mancano i cambi mancano mancano i cambi mancano i cambi continuano gli infortuni c'è Rebici in panchina Diaz non so l'Azetic non so che si cosa si inventerà cosa si inventerà Pioli ma l'impressione della prima parte del di questo campionato di Pioli è che i nuovi non lo convincano non lo convincano a spizziche bocconi mette pobega dentro ma il resto è tutta roba vecchia è questo quello che vi dico da un po' di tempo mette pobega dentro spizziche bocconi il resto è tutta roba vecchia tutta roba vecchia per mettere quelli nuovi ci mette un po ci sono anche altri allenatori però poi bisogna anche capirsi c'è quando dicono che i ragazzi giovani non giocano cioè Bellanova dell'Inter oggi ha avuto una palla si è mangiato un gol a cinque metri dalla porta sul destro gli arriva una palla succosissima che fa la spara in curva c'è un calciatore di quella stazza ma io la io l'avrei messa dentro con la palla con la tua età Bellanova poi dicono che non giocano in uno non giocano i giovani o gli allenatori italiani hanno difficoltà a mettere i giovani ma non ci sta uno che a parte chi come dice cassano che poi è criticato cassano lo critico pure io però lui dice che ha una lezione italiana a parte della roma e chiesa il resto sono giocatori medi e Bellanova arrivi su quella palla che fa spara in curva ma se un giocatore di serie a sei giovane ma voglio vedere se cassano a 22 anni quella palla la sparava in curva col fatto che lui cerchi visibilità ci sono miglia di trattori sbagli a sparare a zero ma lui cerca visibilità lasciamo stare cassano questo voglio dire c'è quelli nuovi del milano perché non giocano vrank dest l'azic mai visto ti ho in panchina e non abbiamo abbiamo solo rebic che può entrare in attacco speriamo nel secondo tempo ragazzi ci è una prestazione di alto livello fare un gol in maniera facile e sperare che questa partita si sblocchi stanno attenti dietro è stato dietro forza milan cerci iscrivetevi al canale per favore e fatemi sapere cosa ne pensate nel video commentatemi il video è la vostra opinione è sempre la benvenuta su mio canale lo sapete cioste forza milan